Pasta con i carciofi? Facciamoci un pesto con noci, pecorino e menta. Tanta roba. Tolgo le foglie più esterne, la parte finale del gambo e la barba interna. Faccio andare in una padella con un po' d'acqua calda e il coperchio. Butto la pasta e preparo il pesto. Se sgusciate voi le noci sono più buone rispetto a quelle già sgusciate. Carciofi, noci, un po' di pecorino e della menta. Olio e frullo aiutandomi con un po' di acqua di cottura. Una parte di carciofo la frigo, la userò per l'impiattamento. Salto la pasta nella padella dei carciofi e a fuoco spento aggiungo il pesto. Sul piatto metto altre noci, i carciofi fritti, un po' di menta e la pasta è pronta. Fatemi sapere se vi piace. Daie!